Le città europee, specialmente le città del sud d'Europa, hanno oggi una triple priorità, quella della diseguaglianza, della diseguaglianza e della diseguaglianza. E devono fare fronte a questo problema in forma immediata. Le possono fare fronte dal punto di vista della politica della casa, della politica dello spazio pubblico e della rigenerazione urbana. Non lo possono fare ognuna per sé stessa. Occorre anche lo scambio di esperienze, ma anche e soprattutto la coordinazione per attuare in fronte agli Stati e in fronte alla Unione Europea per assicurare l'esistenza, da una parte, di politica strutturale per quello che riguarda la distribuzione del reddito, dall'altra parte, di supporto alle politiche urbane che devono fare fronte a queste diseguaglianze. Grazie per la visione!